Siamo arrivati alla terza edizione di Alte Rego, che è un festival residenziale per Arturi, il festival di Residenziale per Hector, questa è la terza edizione, per due anni, per due anni, abbiamo finito il programma, perché c'era il Covid, e quindi nessuno potrebbe arrivare da un paese. Questo anno abbiamo un progetto con più di 20 studenti bolognese, da diversi universi. Abbiamo avuto una performance sul Club Giurale in Piazza dell'Italia, su Riferro di Antialeghi. Però in Alte Rego ci sono sempre degli scambi culturali, degli spettacoli fra i gruppi che ospitano e quelli che sono ospitati. C'è sempre un intercambio tra le persone che hanno chiesto e i grandi chiesti. Oggi farà la performance di Alessandria Ilia, perché quella è specialmente la Patroniva. Ed è anche docente in diverse università, bulgari e macchi, americane, di questo tipo di linguaggio teatrale. C'è anche un altro tipo di linguaggio. Per oggi, lo spettacolo si intitola di giorno e di notte. e prende le tracce dalla patoghima classica di Jean-Louis Barron, che è stato appunto il fondatore di questo tipo di patoghima. E ora vedrai un show che si chiama Paris, in the night Paris, in the day. E' una performance molto classica di Jean-Louis Barron, che ha creato questo tipo di linguaggio. domani sarà il nostro gruppo Teatro Sardar che presenterà il suo spettacolo, l'ultimo Cicatrice. e poi dopo domani, il gruppo di studenti dell'Università Burga presenterà il suo spettacolo in Dunti. e poi dopo domani, il gruppo di studenti dell'Università Burga, che ha creato il suo spettacolo in Dunti. quindi adesso vi trattacolo e buona miseria a tutti e grazie per essere intervenuti all'Università di Terego. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Basta. Adesso basta. Pesta. Grazie.